L'automobile è un insieme di materia e sensazioni, freddo acciaio unito ai battiti del cuore, un legame difficile da spiegare. Le guardo da sempre con grande curiosità mista a stupore, con reverenza e desiderio, fantasticando su quali avrei messo un giorno in garage. I sogni ad occhi aperti di quando ero un bambino si sono trasformati in un lavoro che mi permette di guidare le auto più belle di sempre, raccontandole per renderle assolute protagoniste. Al di là di tutto, so solo che mi piacciono le macchine e questo è Suaikara.